Maria Lebano, nuova corteggiatrice di Uomini e Donne e di Andrea Cerioli nuova tronista della trasmissione. La corteggiatrice ha 24 anni ed è nata a Napoli. Maria Lebano è stata subito eliminata dal tronista spagnolo Jonas Verami in quanto non incontrava i suoi gusti, mentre è stata tenuta dal tronista spagnolo. La napoletana fa come lavoro la make-up artist, la massaggiatrice e la modella dato il suo fisco statuaria. Si considera una persona timida. Nel passato di Maria Lebano di Uomini e Donne troviamo anche una partecipazione al concorso di bellezza di Miss Italia dove è stata eliminata prima di approdare alla fase finale. Ricorderete che il concorso venne vinto da Maria Perussi Calabrese appena 18 anni. Il tronista Andrea Cerioli sembra ben propenso nei suoi confronti dato che l'ha già baciata una volta e l'ha già portata tre volte in esterna. Ovviamente se la dovrà vedere con Sharon Bergonzi un'altra preferita dal tronista. E quindi senza aggiungere altro ecco a voi queste bellissime foto nella neocorteggiatrice Maria Lebano.